Il Parco Sommerso di Gaiola festeggia i 19 anni dalla sua istituzione, dando il via al progetto Gaiola Anch'io, un'iniziativa di inclusione sociale nata dalla collaborazione tra il Parco Sommerso di Gaiola e l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Napoli, che vuole puntare sulla funzione inclusiva ed educativa del mare, come sottolinea l'assessore con delega al mare, Francesca Menna. Parte da un'idea condivisa con la Gaiola Onlus, quella di rendere questi posti belli anche dei presidi di inclusione sociale per sensibilizzare e partire soprattutto dai bambini. Io sono assessora anche alle pari opportunità, quindi sono partita dai figli delle donne vittime di violenza e insieme poi con l'assessore Pagano, che è alla delega alle carceri, anche coinvolgendo i figli di persone che si trovano nelle carceri. E questo per appunto cominciare non solo a costruire una sensibilità ambientale e un'attenzione alla bellezza, ma questo possa restituire anche ai bambini il valore che hanno ognuno di loro per tutta la comunità. Un progetto che ha visto al centro soprattutto i bambini, che si sono recati alla Gaiola per fare una pulizia di tutta quella che è la spiaggia, ma anche l'aria che arriva al mare. Una mission, quella verso i ragazzi meno fortunati della città di Napoli, infatti proprio loro si sono resi protagonisti sabato mattina di una pulizia radicale di tutta la spiaggia. Un'iniziativa di laboratorio didattico e culturale, ma anche ricreativo, come spiega Maurizio Simeone, direttore del Parco Sommerso Gaiola. Progetto che veramente abbiamo voluto fortemente insieme anche all'assessorato per le pari opportunità, perché abbiamo sempre creduto che il parco, un'osi naturale, soprattutto inserito in un contesto urbano, quello della città di Napoli, debba avere una forte propensione non solo verso i bambini, verso i più piccoli, ma anche verso le fasce diciamo meno fortunate. Per questo il progetto Gaiola Anch'io vuole portare in questo luogo splendido della città di Napoli, finalmente rinato, finalmente diventato quello che dovrebbe essere, cioè un patrimonio della città, un patrimonio naturale e culturale, i ragazzi che ovviamente hanno avuto meno fortuna di vivere, la meno possibilità di vivere questi posti.